ciao a tutti bentornati sul canale di guadagnare con le criptovalute vi ricordo l'importanza dell'iscrizione al canale in modo tale da rimanere sempre aggiornati ad ogni video che metterò in online in ogni video vi suggerirò un modo una strategia una nuova piattaforma per poter guadagnare criptovalute in tempi brevi ricordandovi sempre però che comunque l'ambito dell'investimento in criptovalute riporta sempre dei rischi quindi fate sempre le cose con la testa mi raccomando questa sera andremo ad analizzare elder hash che è una piattaforma in stile aurora mine per chi non non la conoscesse si trattava di una piattaforma che ci dava appunto 150 giga hash di potenza di calcolo per effettuare mining sostanzialmente è una piattaforma che rientra nelle hype quindi a breve durata l'investimento minimo è di 8 euro e 63 quindi comunque è un investimento erisorio ci fa guadagnare ci fa rientrare nel nel nostro investimento in dieci giorni come potete vedere da qui se effettuiamo un investimento minimo praticamente andiamo a guadagnare 86 centesimi al giorno quindi il 10 per cento fondamentalmente se dovessimo investire di più prenderemo sempre comunque il 10 per cento pertanto il rientro del capitale si effettuerà in dieci giorni si può usare anche semplicemente come un faucet quindi il fatto che appunto non preveda un obbligo di investimento fa sì che ci si può iscrivere e guadagnare senza neanche mettere l'investimento minimo di 8 euro e 63 come funziona dopo aver effettuato l'iscrizione andiamo sulla sulla dashboard che ci si presenta in questo modo ci dice appunto la potenza di calcolo che abbiamo attiva quanto abbiamo raccimolato fino a questo momento io sono iscritto da circa un paio d'ore e ho già tirato su 369 satoshi quindi per questo motivo risulta essere anche un un ottimo faucet da cui guadagnare qualcosina prevede un programma di affiliazione come vedete da qui qui troverete il vostro link per poter far iscrivere i vostri amici e guadagnare entrambi considerando che appunto non prevede nessun investimento obbligatorio quindi perché non usufruirne e non venitemi a dire sono schemi ponzi sì ma nessuno ti dice di investire qualcosa puoi usarlo anche semplicemente come un faucet quindi l'ho ribadito per l'ennesima volta per qualsiasi domanda sono qui a vostra disposizione vediamo cosa ah beh come effettuare l'investimento ve lo faccio vedere si clicca su deposito qua ci fa reso conto io al momento non ho effettuato nessun deposito sto valutando se metterci qualcosina sinceramente ma al momento non lo so andiamo a cliccare in questa zona dove decidiamo appunto quanto investire poniamo il caso di metterci 20 dollari ci dice che appunto ci viene dato 1044 giga hash di potenza di calcolo e possiamo effettuare o il pagamento tramite il nostro account ma in questo momento non me lo permette perché giustamente ho racimolato troppo poco o tramite bitcoin quindi andiamo a effettuare una transazione su questo codice e appunto avremo effettuato il deposito molto semplice ripeto senza nessun obbligo di investimento ci offre il 10 per cento al giorno possiamo fare una simulazione praticamente a noi ci vengono dati 150 giga hash come vedete qua l'investimento minimo prevede 8 euro e 26 e ci dà 431 giga hash quindi in linea di massima in omaggio 3 euro corrispondono circa 150 giga hash quindi questo è l'investimento gratuito che ci dà la piattaforma per partire e cominciare a guadagnare con questo è tutto vi saluto vi ricordo l'iscrizione al canale perché è fondamentale per darmi la carica per continuare a farvi altri video in merito ai guadagni facili tra virgolette ma vi ricordo che si tratta sempre di piattaforme con rischio elevato quindi fate con la testa ogni qualsiasi forma di investimento vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao